È una disciplina sportiva che nel nostro territorio ha fatto passi da gigante come interesse e crescita di partecipanti. Si tratta del bodybuilding, sport che a vittoria mette in vetrina in questi giorni un atleta di ottime doti e personalità, Giuse Dezio, proprio ieri ricevuta a Palazzo Iacono dall'esperta allo sport Fabio Prelati, a pochi giorni dalla sua partenza per la Germania, dove parteciperà ai campionati mondiali in programma d'Arsen. Un biglietto per la Germania, guadagnato grazie alla recente selezione di Padova dello scorso 20 ottobre. Ovviamente il bodybuilding è una passione ormai da anni. Quest'anno è diventata molto più concreta vincendo questa selezione per i mondiali a Padova il 20 ottobre scorso e adesso si affronta nei mondiali. Il 15 si parte per la Germania, speriamo il 16 e il 17 di portare un trionfo anche per la città di Vittoria.